Un incontro importante con il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e Arcivesco di Bologna, in programma alle 17 all'Auditorium Giovanni Paolo II in Via Cavour, in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico dell'Arcidiocesi Pescara Penne. Amore e coniugalità, un percorso non sempre facile, stando ai dati Istat, se ne parlerà domani. I celebranti sono i coniugi, quindi la responsabilità della celebrazione spetta a loro. Dunque, se loro non hanno celebrato con i dovuti accorgimenti e soprattutto con la dovuta coscienza, la dovuta preparazione, da un punto di vista di fede, da un punto di vista psicologico, da un punto di vista umano, da un punto di vista relazionale, e potremmo continuare la litania delle caratteristiche importanti, certamente quel matrimonio non esiste, non è mai esistito e la Chiesa, attraverso un procedimento di verifica, dichiara che non è mai esistito il matrimonio. La preparazione al matrimonio non è solo prossima, ma riguarda anche i vissuti più remoti in ordine di tempo. Non solo l'eventuale partner, ma come si amano i genitori, come si amano i fratelli, come si amano gli amici, come si amano le persone che comunque devono esprimere la loro dimensione d'amore, di agape, come giustamente l'ha definito lei, nei confronti della stessa umanità e oserei dire dello stesso creato, perché noi siamo immersi dentro questa bellissima realtà creaturale. L'amore come dono di sé, come agape cristiana, ma anche come atto del donarsi. La reciprocità nel sentire che amo e sono amato, amo e rispondo amore, del resto il Signore ci dice proprio questo, io ti amo, tu amami. La prima promessa è andata, adesso tocca il sì davanti a Dio. Sì, sicuramente ci vorrà ancora un po' di tempo, però aspettiamo quel giorno. Come si arriva al sì? Preparandosi. Preparandosi per molti molti anni, noi ci abbiamo messo un po' di anni per prepararci, però alla fine abbiamo deciso di fare questo passo dopo dieci anni di fidanzamento. Auguri da Rete Otto. Grazie. 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 Grazie.